Questo animale non è una mucca, non è un toro, è un semplice bue. Il nome scientifico del bue è bovem. Come la mucca e il toro appartiene alla specie Bostaulus. Il bue è utile per la soma, come l'acinello. Alla taglia c'è di un uomo adulto, perché i bovini sono più grossi delle persone. Appartengono all'ordine degli archidattili, del sottordine dei ruminanti, della famiglia dei bovini e della sottofamiglia dei bovini. Quale animale vive nella stalla? La pecora, la mucca o il gallo? La mucca! Grazie a tutti!